Maria Orlando, responsabile dell'associazione La Libellula, oggi qui per affrontare una nuova vertenza, parliamo dei ritardi nell'erogazione del contributo per il trasporto scolastico per i disabili. Che cosa sta succedendo? Io sono qua a denunciare, a segnalare ciò che mi viene detto dalle mamme, mi viene illustrato dalle mamme, che puntualmente si ritrovano ancora oggi a non percepire il contributo trasporto scolastico per alunni diversamente abili, sia per quanto concerne la vecchia liquidazione del comma 1 e sia per quanto concerne la nuova liquidazione del comma articolo 3,3. Mi spiego meglio, praticamente a supporto ci sono due determine, due determine che sono state pubblicate, una il 29,94 del 29 dicembre 2023, che riguardava un impegno di spesa pari a circa 26.000 euro per quanto concerne l'articolo 3,3. E poi mi ritrovo un'altra determina, sempre pubblicata nel mese di dicembre, precisamente il 20, 29,09, invece per quanto concerne la liquidazione del comma 1, che ancora non era stato liquidato. L'importo in questo caso era di 17.170 euro e gli utenti da liquidare erano sui 100 utenti più o meno. Ci ritroviamo per l'ennesima volta a delemosinare un qualcosa che tocca di diritto, soprattutto a vivere nell'angoscia ogni mese di ricevere l'ennesima motivazione, l'ennesima risposta che non ha fondamento. Ci interfacciamo puntualmente con gli uffici preposti e una volta ci viene detto, diciamo, a supporto di questo ritardo, ci viene detto che non c'è scarsità di personale. Poi ci viene detto addirittura che stanno avendo dei problemi nella gestione di un nuovo sistema informatico che è partito da circa un mese, quando poi i ritardi tipo del comma 1 era già antecedente. E quindi adesso c'è il sistema informatico. Poi ci viene detto addirittura che ancora devono arrivare le presenze scolastiche. Di certo queste problematiche non possono penalizzare le famiglie. Assolutamente no, anche perché alla fine a pagarne le conseguenze sono solo ed esclusivamente le famiglie con i loro bambini. Qual è oggi il suo appello? Al dirigente russo, ovviamente di fresco insediamento, cosa posso dire? Di cercare di prendere in mano questa situazione con sensibilità, con la giusta sensibilità, con il giusto controllo e con la giusta umanità, proprio al fronte della risoluzione definitiva di questa problematica. Mentre per quanto riguarda l'assessore Maria Teresa Sorrentino, il mio appello, so che ha avuto anche poco fa, l'ho letto dai media, ha avuto anche la delega alla gentilezza. E io mi appello proprio a questa gentilezza, affinché lei possa impiegarla per potersi dedicare in maniera costruttiva a quelli che sono i disagi di queste famiglie. Raccogliamo oggi anche le testimonianze di chi quotidianamente deve far fronte a questi problemi. Quali sono i veri disagi? Io sono una mamma con un bambino cardiopatico purtroppo da sette anni. Mio figlio fa visite tutti i mesi, io lo porto a Monaldi. Noi mamme siamo appoggiate su questo sussidio che sono diritti dei nostri figli, o più abili o meno abili, comma 1 o comma 3. I bimbi sono tutti uguali, vogliamo quello che toccano solo i nostri bambini che ci mettono in attesa, ma non di giorni, mesi, mesi e mesi. Da quanto tempo state aspettando questo contributo? Purtroppo è anche da Natale che noi aspettiamo e attendiamo con ansia e ogni volta ci viene detta una scusa che sinceramente a noi non riguarda. Le mamme oggi qui rivendicano i diritti per i loro figli, bambini speciali, lo vogliamo spiegare perché? I nostri bambini dovrebbero avere la priorità assoluta e non venire qui ogni volta dell'emosinare un contributo che ci spetta di diritto. È una cosa veramente inaudita. Siamo tutte insieme per gridare al sindaco e a tutta l'amministrazione che bisogna avere rispetto dei nostri bambini. Facendo terapie andiamo incontro a dei costi elevati e abbiamo bisogno di un sostegno economico che a volte non tutti possono avere. E quindi questo contributo a noi ci è molto di aiuto. Quando veniamo qua ai servizi sociali e chiediamo una cosa, un'informazione, vogliamo la verità. Adesso la priorità è sapere quando esattamente vi verranno erogati questi contributi. Infatti, e poi vogliamo sapere una data precisa, non una data così campata in aria. Noi abbiamo diritto di sapere. Una data che poi deve essere rispettata. E appunto, come noi rispettiamo le date quando facciamo le domande che loro mettono una data e ora, è di scadenza. La vogliamo anche nell'allargizione del contributo. Siamo ogni anno qui con l'angelo custode Maria Orlando che è straordinaria, che senza di lei veramente noi saremo perse. Veramente una mano dal cielo e quindi ogni volta è la stessa storia.